Prosegue la marcia del Real Font Gesù alle spalle delle due fuggitive Scandale e Caraffa. I crotonessi battendo oggi il Santa Severina per 1-0 con il gol di Livieri si mantengono in terza posizione di classifica dovendo recuperare una partita e quindi potendosi ancora avvicinare ovviamente ancora alle prime due. Una partita complicata, difficile certamente per la squadra di Crotone che alla fine ne è venuta a capo con questo gol che rilancia la squadra del Real Font Gesù mentre condanna il Santa Severina ad essere distaccato dalle zone alte della classifica essendo stato scavalcato anche dal San Mauro Varchesato e dalla città di Ciro Marina.